Siamo su Viale Magna Grecia dove questa mattina prima delle otto è successa una vera tragedia. Due morti e un ferito grave che è ricoverato in ospedale. È crollato il muro di sostegno di quella che è la strada che collega la città con Capocolonna. Stavano facendo dei lavori, il muro di sostegno è crollato e questi operai erano lì sotto. Giuseppe Greco e un altro operaio rumeno Dario sono morti e in condizioni si dice gravi ma per fortuna ancora vivo Mario De Meco che è ricoverato in ospedale ed è stato soccorso dal 118. I primi ad arrivare sono stati gli uomini della questura di Crotone, poi i carabinieri, i vigili del fuoco. Si sono dati tutti da fare ma non c'è stato nulla da poter fare per i due morti. Dalle immagini che vedete è crollato proprio questo muro anche se i lavori dei pali già erano stati fatti. Quindi un muro storico della nostra città in questa zona creando questo dramma. E chiaramente diciamo siamo vicino alle famiglie che si ritrovano a vivere questo momento. E dobbiamo anche aggiungere che l'azienda che sta facendo questi lavori è un'azienda seria della città, l'azienda Billirillo di Crotone, Scavi e crediamo che adesso ci sarà l'autopsia ma sono intervenuti i magistrati, gli ispettori del lavoro, gli ispettori dell'Asp per avere un'idea chiara di quello che è successo. Maggiori informazioni ve le daremo nel corso della giornata. Maggiori informazioni e revisione a cura di QTSS